Non rilassare queste mani, come fare bene i miei danni? Che sanno dare con questa mossa e con la scossa che da noi si chiama? Ssss! Che da noi si chiama? Eh? Come vibrare di una molla, mi viene a tremare una balla a lui? Ssss! Sembra che suoni una bomba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col titolo! Incrocio le mie braccia qui sul mio cuore. Mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto... Muoghiamo assieme queste mani? Oh, come fare bene! Dani! Che sanno dare con questa mossa quella scossa che da noi si chiama? Eh? Che da noi si chiama? No! Come vibrare di una molla, mi viene a tremare la balla a lui? Ssss! Ssss! Sembra che suoni una bomba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col titolo! Devi al corso le mie braccia! Sul il mio cuore! Dimentico il mondo! Tra l nghiratto! Poi incrocio la mia mano! Come farebbe un capo indiano! Non per vedere l'orizzonte ma la fine che è di fronte, di fronte a me! Ma di fronte, di fronte a me! Grazie a tutti